Ora andiamo all'assioma 5, che è l'assioma che ci dà l'esistenza della fusione di parti mereologiche e che abbiamo indicato appunto con z. Che cosa ci dice l'assioma 5? L'assioma 5 ci dice che se esiste x tale che x soddisfa la proprietà phi, allora esiste la fusione z, phi. Cioè se esiste una parte che soddisfa ad una certa proprietà, allora possiamo considerare la fusione di quella parte, oppure di quelle parti, la fusione di quelle parti che soddisfano a questa proprietà. Bene, da questo punto di vista noi possiamo quindi definire un qualcosa, un qualcosa come una proprietà. E che cos'è questo qualcosa? Ed ecco, in questo caso vi dico che in certi casi la phi x viene indicata come gx, cioè si dice che x è un oggetto, se è solo se esiste y, tale che x è uguale ad y. Cioè in questo tipo di approccio si dà come definizione implicita di oggetto il fatto che l'oggetto è semplicemente qualcosa. A me questo tipo di soluzione non soddisfa. Non si tratta del fatto che per dire oggetto, dire oggetto per me non equivale a dire qualcosa. L'oggetto è già da indicare secondo una proprietà particolare. Mentre in molti casi dire qualcosa e dire oggetto per i filosofi è la stessa cosa. E quindi, semplicemente dire phi x, dire che x è un oggetto, significa dire che x è qualcosa, e dire che x è qualcosa vale in certi casi, ricordatevi tutto quello che abbiamo detto su esistenza, quine e compagnia bella, equivale a dire semplicemente che x è uguale ad y. Cioè esiste un qualcosa, allora per dire che esiste un qualcosa basta dire che x è uguale ad y. Da questo punto di vista, quindi, al posto della phi, qui possiamo metterci appunto la proprietà phi e diremo e indicheremo quello che di solito è indicato come universo. L'universo come la fusione di tutte le x, tali che queste x siano identiche a se stesse. Quindi è la fusione di tutte le parti. Certamente, per noi, per quelle definizioni che ho dato io, questo non equivale a dire che l'universo sia la fusione di tutti gli oggetti. Ok, di fatti, noi, io, ho dato una diversa definizione. Nel senso che l'oggetto, per me, si distingue dal concetto di parte. Per me, l'oggetto x soddisfa la proprietà phi, e qual è questa proprietà? Quello che esista una parte y, tale che x è disgiunto da y. Andate a vedere qual è la definizione di disgiunto nelle definizioni che abbiamo dato qualche video fa. E che cosa indichiamo noi per universo di oggetti? La fusione di quelle x che soddisfano a questa proprietà phi di essere disgiunti. Quindi la indicheremo formalmente come sigma x, tale che esista y, per cui x è disgiunto da y. La domanda che noi ci poniamo è la seguente. Cioè, qual è questa domanda fondamentale? G è un oggetto? La risposta è no. G non è un oggetto. Per cui, la dimostrazione del tutto simile a quella che noi avevamo dato nel caso di due semplici oggetti era questa. Se G fosse un oggetto, allora la nostra proprietà phi sarebbe definita come tale, per cui G è un oggetto se è solo se esiste un L, per cui G è disgiunto da L. Allora, per la definizione di 6, di fusione, che noi avevamo dato, e che io vi riporto ora qui, abbiamo il primo congiunto. Per ogni x, se x è phi, allora x è parte di z. L'abbiamo dato prima. Per questa definizione abbiamo che se G è un oggetto, ma G l'abbiamo definita appunto come fusione, di tutti gli oggetti, lo riporto ancora qui, G era stata definita come la fusione di tutti gli oggetti. La domanda è, G è un oggetto? Se G è la fusione di tutti gli oggetti, e la domanda è G è un oggetto, perché G sia la fusione di tutti gli oggetti, deve soddisfare a questa definizione di fusione. Se soddisfa a questa definizione di fusione, noi avremo che esiste L tale che G è disgiunto da L, ma se esiste L tale che G è disgiunto da L, allora G L è parte di G, ma se G è disgiunto da L, non può essere L disgiunto da G, e quindi non esiste L tale che G ed L siano disgiunti, per cui la fusione di tutti gli oggetti non è un oggetto. Quindi, ora l'abbiamo visto nel caso più generale, prima l'avevamo visto nel caso particolare a due oggetti, ma come vedete la dimostrazione non cambia. Diciamo che la sostanza della dimostrazione rimane la stessa. Allora, in queste, diciamo, nella mia definizione di oggetto, la definizione che ho dato io di oggetto è una definizione molto, diciamo, semplice. Non mi sono impegnato molto a dare una definizione di oggetto. Certamente è una definizione molto più semplice di quella che Alain Badiu dà in Logica dei Mondi. Ce ne occuperemo della definizione di oggetto che Badiu dà nella Logica dei Mondi? Sì, ce ne occuperemo. Vi farò, vi mostrerò quanto è più ricca la definizione di oggetto che dà Badiu nella Logica dei Mondi. Ma questa definizione di oggetto che vi ho dato è, per così dire, funzionale alla dimostrazione che la fusione di oggetti non è un oggetto. ed è fatta in modo tale, data in modo tale per farlo vedere nel modo più diciamo più abbordabile possibile, nel modo più più semplice possibile. Nei prossimi video che riguardano che riguardano la mereologia, noi prenderemo in considerazione anche delle discussioni che riguardano gli stessi assiomi di riflessività, antisimmetria e transitività, però lo faremo poco alla volta. Nel frattempo, nei prossimi video, mi occuperò di rispondere ad una domanda. Che cosa è un mondo? Che cosa si intende per mondo? Questo per ritornare nella scia del pensiero di Alembadio. Ed è proprio in riferimento alla risposta alla domanda che cos'è il mondo che noi ritroveremo sotto altre vesti lo stesso concetto di inesistenza del tutto ma facendo questa volta riferimento direttamente alla teoria degli insiemi. Sarà per questa strada quindi passando attraverso la teoria degli insiemi che giungeremo appunto a dire dell'inesistenza del tutto e vi darò l'inizio di ciò che intende Badier con il suo concetto di verità. E proprio in riferimento al concetto di Badier che Badier dà al termine verità che ritornerà di fondamentale importanza avere visto che l'intero di un universo di oggetti non è un oggetto e insieme al fatto che il tutto è inesistente dal punto di vista della teoria degli insiemi. Ecco perché ho voluto sottolinearlo. Bene. Grazie e al prossimo video. Forse questo video verrà spezzato in due. Una prima e una seconda parte. Ok. Grazie ancora e alla prossima volta. grazie a tutti.